Siamo in provincia di Pesaro, esattamente a Cagli, nella zona industriale di Cagli, dove esiste una autentica eccellenza del nostro territorio. Un'azienda che si chiama Townet, è stata fondata nel 2003, è condotta oggi da due soci e conta in tutto otto dipendenti, ma è un'azienda che si contraddistingue per la sua capacità di cogliere il momento, il momento dell'innovazione. È l'ultimissimo prodotto di questa azienda che si chiama Sfera e che viene, non a caso, presentato a Dubai nel corso dell'Expo. Siamo un'azienda marchigiana che è nata nel 2003, qui a Cagli, con un'esigenza imminente, che era quella di risolvere una problematica connesse alla diffusione del broadband. All'epoca, nel 2003, avevamo una copertura a macchia di leopardo delle soluzioni di interconnessione e la nostra azienda ha sviluppato uno dei primi sistemi radio, wireless, per interconnettere al di fuori di quella che era l'offerta del monopolista dominante. E quindi siamo specializzati nella produzione di apparati di telecomunicazione. Abbiamo approfittato dell'occasione che ci ha offerto la regione Marche di poter essere presenti all'Expo a Dubai con un nuovo prodotto che è appena uscito e per cui è stato appena presentato. Si tratta di un oggetto che è un'integrazione per sistemi di videosorveglianza e di controllo ambientale nelle smart city cosiddette, che integra al suo interno sia sistemi di alimentazione, di monitoraggio dell'aria, dell'ambiente ed è possibile controllare tutto questo centralmente. L'apparato dispone di batterie al litio per tutto un discorso di recupero energetico e di sostenibilità anche con pannelli solari dell'alimentazione, per cui proprio destinata a quei mercati come Dubai oppure come gli Emirati Arabi comunque del Nord Africa e è possibile collegarlo ai lampioni senza dover predisporre delle alimentazioni specifiche. Si alimenta con la corrente che viene mandata al lampione, per cui di giorno si alimenta con le batterie e di notte viene ricaricata dalla tensione di rete. Questo ci rende orgogliosi, ma non basta però essere orgogliosi, bisogna sostenerlo realmente il sistema economico e abbiamo fatto un bando per realizzare un'operazione sfruttando Dubai e a fianco all'Expo di Dubai abbiamo messo una settimana dedicata alle imprese marchigiane, ma non le abbiamo coinvolte in modo tradizionale. Noi abbiamo fatto un bando, le imprese hanno risposto al bando con un progetto compliance al proprio business e ci hanno chiesto di fare cose diverse tra loro. Queste cose diverse si declinano in tanti eventi fatti dentro la città di Dubai e Townet è una di queste e quindi volevamo raccontarlo anche ai marchigiani che cosa andiamo a fare a Dubai e soprattutto tutto questo per la prima volta è anche un'operazione di branding. Cioè siamo riusciti con questo marchio, Marche Land of Excellence, a creare un'identità che sarà comune a tutte le imprese e insieme alla Camera di Commercio e alla Regione Marche andremo a presentare ciò che le Marche di Meglio hanno da raccontare al mondo.